Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio dei Lucky Skywars Per variare un po' siamo su Evermine e oggi ci faremo questa partita qui che dovreste vedere tipo il 20, il 18, il 17, non so, ho perso il conto ormai E quindi andiamo a giocare, la stessa cosa che avete visto oggi comunque, tra l'altro sono sicuro che alle 14 esce la Sky Elements Quindi già su quello cazzo mi sono dimenticato di mettere la cesta OP però scioppiamo, scioppiamo male Shop, facciamo pim 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 e pim 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 No ho sbagliato, giuro non volevo prendermi così tante Però vabbè ormai è capitato Un arco interessante, una pozione di healing, molto interessante anche questa Boh, ci è andata abbastanza bene dire di andare al centro perché comunque almeno abbiamo più roba da spaccare Magari troviamo pure la roba OP, ecco esattamente questa Che però è stata fulminata Ma vaffanculo, era la Lucky Axe però Ah, shit Era la, oh merda No, 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 non faccio team Lol, una spatata che ho tirato Scusa amico mio, scusa però L'avevo detto che non facevo team, ce l'ho detto in lobby, più che altro che non l'avete visto quindi Boh, è capitato Oh, arco della lentezza non serve a un cazzo Ma che cazzo è che esplode qui? Cazzo ci stanno i terroristi Ok, una semi armatura OP Questa invece è jet che cammina sotto la mia finestra Cioè macchine più che altro che camminano Allora mi mangio una mela d'oro Non siamo in una posizione molto tattica Infatti penso che farei A parte che ne vedo uno sopra Quindi mi tippo sopra quel fungo E andiamo a rompere il culo di questo qua Bella zi Lol, è stato molto Ah, cab, sti qui Ma che cazzo vuoi che non ti ho spawnato io Ok Comunque effettivamente mi sono dimenticato di mettere il super salto e le cesto OP Perché così sarebbe stato molto meglio Cioè, che cazzo Ehm Sì, regà, c'è gente che mi sta spammando Però la gente non capisce che se non rispondo ci sarà un motivo Però niente, la gente è testa dura Quindi non possiamo farci nulla più che altro Oh, no, c'ha la spada OP E vabbè Bella Boh, a sto giro non mi sono dimenticato nulla Ho preso persino il kit Ho messo le cesto OP E tutti i cazzi e mazzi Mi escono sempre ste cazzo di cose che non voglio Però, vabbè, ormai le abbiamo E TNT Interessante Comunque qui sotto c'è una chest Posso confermarlo, me l'avete detto voi Però ci metto 23 anni a spaccare Che palle Ok, un melone E sotto c'è una chest Ok Ulla, madonna Minchia Comunque si rega, prendo la spada in pietra Perché fa più danno Non perché La pietra è meglio del diamante Ma perché ha Incentment migliori E fa 10 e mezzo di attacco Ho messo il jump boost E andiamo a spaccare i guli Tipo a questo qui Così proprio Bim, bim Mamma mia, signori Attenzione, attenzione, attenzione Attenzione Non ho le mele d'oro Questo potrebbe essere effettivamente un problema Però ho droppato una pozione dell'healing E quella di forza No, non me l'ha droppata Spera questa è di weakness Magari non la bevo Ok, poi spacchiamo questo TNT C'è gente al centro Quanto odio questa cosa che dice Non sei il fabbro Ma per chi cazzo Eh, ma che cazzo Ma sempre voi la droppate sta cosa Lol L'ho saputa usare bene la pozione of healing Allora, questo qui se lo colgo alle spalle No, se lo colgo alle spalle Un cazzo, c'ho la spada Quella lì, bastarda Missato Preso Dai, regà Voglio la spada pulito Ma perché Intanto questo Mi ho buttato giù da solo Ok E tra l'altro Quello là con l'accetta In In Cristo Dio Eh, vabbè Quello lì si staffa la torre E mi sta mirando Ma non ha capito un cazzo Probabilmente Perché faccio così E lo prendo E lo butto giù E poi faccio così Sì, però Quello mi ha dato fuoco Nel frattempo Vai Oh No Muori Bello così No No, 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 no No Niente In sto video sto andando a fuoco Più che altro Più che un video È un tutorial Su come andare a fuoco Molto velocemente Oh Stavolta l'ho droppata io Bastardi Adesso vi rompo il culo Adesso vi rompo il culo Comunque sono metà full oro E metà full Merda Cioè, no In realtà sono messo abbastanza bene C'è pure l'enderpearl Sono messo più che bene Questo qui c'è una protection Ed è meglio della plast Effettivamente Perché al momento Non mi serve assolutamente a nulla Questo qui Deve mori Vai a fuoco Bastardo Ti uccido Mangiamoci una melatora per sicurezza Casalmente dovesse rascere qualcuno E continuiamo a rompere i blocchi Magari ci troppa Qualche cosa di incredibile Incredibilmente occupi di cui Noi non Cioè, proprio non capiamo un cazzo Nel senso che Proprio devastiamo pure l'anima A Cristo Ah, questi qui stanno camperando tutti Nessuno che viene al centro Su Dai Uh, interessante Eh, quella con thorns Eh, allora la sostituisco Cioè, tanto è uguale però Almeno c'ho thorns Ok Eh, facciamo così Che cosa mi ha dato No, stiwi Eh, che cazzo Beh che con due sfada ti muori Però mi ha dato pure fuoco Stupid in merda Oh, regà Non muore più No, aspetta C'ho un cuore in più Che cazzo mangio la melatora Eh, non so che fare Stanno camperando tutti Tipo non questo però Ok, vai a fuoco Muori L'ultima sparata Gli serve, regà Forse un'altra Tipo così E poi Così Ottimo Adesso mangio la melo d'oro No Non mi avrai mai Non puoi avermi proprio Un altro si è tippato Noi lo schizziamo via così Addio, my friend Ok Ce la stiamo giocando Più che bene Stiamo camperando Al centro da soli Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Allora Siamo rimasti in tre E tutti e due camperano Mmm Slash shop Sono pieno Nell'inventario Sì Allora facciamo un attimo così Ah no Ma io ce l'ho all'arco Ok Considera che se ti prendo Muori Nonna se ti prendo Ti faccio fare un volo Che ti ricordi Tutta la vita Oddio ma Effettivamente sono un po' stupido Ho fatto la colonna Posso buttarmi sotto Ok 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 Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa è possibile fare qui Vediamo un po' Vediamo un po' Ok Saliamo qua Poi Dobbiamo spaccare Altri due blocchi E salire Sperando che lui Non si butti giù Perché altrimenti Ci fotte E che cazzo Sali? Ok Dove sta? Secondo me Sì è andato al centro Effettivamente potrebbe essere Una buona tattica Farlo andare al centro Perché così Ho una buona possibilità Di ucciderlo E infatti è andato al centro Però c'è quello là Che sta camperando Come la merda E prenderlo Potrebbe essere una buona idea Effettivamente L'ho preso Sì vabbè però Adesso vengo al centro E ti devasto Vieni qui Via Vola via Vola via ho detto Ciao Questo voleva fare team Ok Però adesso vado lì E glielo rompo E si è tipato al centro Lol Ma c'è altro Ender Pearl Zio No C'è il coso con Knockback Non mi devo far colpire Lol è morto Ho ucciso? Sì Ho vinto Yeah Buona ragazzi Sono state tre partite Molto Gnogne L'ultima L'abbiamo proprio Distrutta noi Perché ci siamo camperati Al centro Non abbiamo ucciso Penso davvero Ucciso tutti quanti Penso Poi non ne sono sicuro Devo rivedere Io come se Sono scomparso Tra l'altro Non so più dove sono Fammi saltare Ok mi vedo Io come sempre vi vedo Lascia un like Un commento Condividere Iscrivervi al canale Se ancora non siete iscritti E vi saluto E Bella